E nasce l'Orto Bello di Perugia, una prima porzione di quello che sarà l'Orto Urbano del quartiere di Borgo Bello, che racchiude Corso Cavour e Borgo 20 Giugno. L'idea è nata da una collaborazione fra l'Associazione di quartiere Borgo Bello, The Umbra Institute e l'Università di Agraria, con l'obiettivo di rendere più accogliente la città, riqualificarla e creare così anche dei nuovi legami sociali. L'iniziativa si è sviluppata all'interno del progetto Caro Vicolo, con lo scopo di ridare vita anche alle vie secondarie, a quelle più degradate che a volte ci sono nei quartieri, attraverso piccole trasformazioni degli spazi pubblici, progettate e realizzate in maniera partecipata.